Si sono svolti dal 31 ottobre al 2 novembre i campionati mondiali di danza a Sarajevo, in Bosnia e Herzegovina, dove era presente anche una delegazione della Dirty Dancing School di Agropoli, la scuola di ballo di Agnese e Antonio Di Biasi. Nella magica a Sarajevo si sono sfidati fino a tardanotte ballerini e ballerine di ogni paese e nazionalità, ma nonostante la difficoltà della manifestazione, la scuola di ballo agropolese ha portato a casa dei risultati importantissimi. Il risultato più importante è stata la medaglia di bronzo della ballerina Giussi Comunale, che si è classificata terza al mondo nella disciplina Latin Show, adulti singolo femminile, una delle specialità più impegnative. Grande risultato anche per il duo formato da Tiziana D'Angelo e Dora Garofalo, che ha raggiunto la semifinale nella specialità duo a tema adulti. La maestra della Dirty Dancing School, Agnese Di Biasi, ha dichiarato di essere soddisfatta, emozionata e gratificata per i risultati ottenuti e anche di essere già pronta e carica insieme alle atlete per la prossima sfida che li aspetta, ovvero il Mondiale di Latin Style di Genova, che si terrà fra pochi giorni.